no davide è one shot davide sparaigni è morto se lo tocchi è morto da sparaigni con qualsiasi cosa vabbè però che mi tosto state arrivati qua no io c'ho uno a metterla da canto c'è uno qua no c'è chi non fa finito caproia c'è uno davanti che mi sparo io c'è chi non raga non rica io c'ho scecchino datemi una mano c'è uno qua da me ma io c'ho scecchino aspetta aspetta rapide tutta detto una casa c'è uno aspetta faccio questo ok ce n'è un altro da né come si vede che fa per fare stanno davanti di questo è però sembra non interessate hai fatto no si resta la vita e resta la vita c'è non sia questo anche se c'ho poca vita penso le poteglia fa ecco la stazione sa sopra mattetti si ma ce n'è uno sopra se s'affaccia di polverizza si accusciato veloci veloci siamo noi entramo che adaglia va vediamo lo stanno avete fatto si stava qua è stata l'ottima gente qua che fa io non c'ho pure non c'ho un cazzo io non c'ho pure non c'ho nulla c'ho poca vita e non c'ho studi aspetta la propria stacassa devo provar più a qualcosa qua io raga ma qua sparano come addannati però qua c'è un mk bianco qua sparano raga bene ho una cura però io a cura dove stai? vieni vieni sto qua nel legname si ma non so se avete visto che ce li abbiamo da tutte le parti che si vanno stanno vicinissimi ho scoppato uno una cura l'ho trovata io ho fatto questo mezzo l'acqua ma sopra sparano c'era uno sopra la colina questo c'aveva gli scudini ah uno scudino a sto porco motoretta qua motoretta eccolo sta qua da me ferma andiamo da fermate Tania ha preso la motorettina e ha ammazzato il scinghiale io non c'ho cura i cacchi non c'ho scudini sto qua sopra che era comunque se ne sta una camoroletta ok chiedo stai ah vabbè ce l'hai pure ne sei curato ecco li saliamo qua sopra vediamo se c'è anni scudi ecco ah no beh lontano sta lì sopra con la montagna là c'è salito eh no niente questo non sta là sotto vabbè continuiamo a lutto acquarica perché qua roba ancora ce n'è aspetta perché me sa cosa ho visto si mantiene andata la scuola Tania noi stiamo qua sotto eccolo ho fatto una cifra male solo che sei andato dietro la montagna niente riscendo da voi lascio la stava dobbiamo andare verso quel punto che ho segnato il tuo tuo è sbagliato ok ecco aspetta è utile andare su questo puzzolo adesso così mi voglio andarci perché c'è una cassa domanda secondo me qua quello che arrivano io potremmo fa veramente male si aspettavi un attimo gli ha sparavamo insieme oh ha fatto un grifar clombo ah ah eccolo vedi eccoli rega qua sotto sta arrivando qua sotto rega qua sotto stanno arrivando verso di noi rega dove sto io stanno in mezzo agli alberi scappano dalla safe adesso questo esce ecco là vedete eccolo ecco ecco dove 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 c'è еровo ottio 18 questa ha costruito sta dentro la safe non potremo finì eccolo ancora 18 la sua ora aspetta 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 stanno a sparare grazie metri mandata qua secondo me o rimaniamo poi combattiamo allora lì c'è sta gente a quante dietro eccoli lì in mezzo riga guarda le spalle perché c'è questa nostra 18 18 no non ci credo scendiamo via 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 di caso sceso soccano via io sono morto ma come smorto si davide ma ha dato fuoco sotto buttare sui 11 davide gira del resto non è solo velocemente questi c'ha massa da pericolo ammazzarci entra subito nella casa tutti qui dentro tutti qui dentro sotto 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 lega andiamo sotto andiamo sotto i nati di nati bucciati lega aspetta curate da niente bello questi ci vogliono farsi e che stanno a sceme nascondiamo se qua dietro venite venire ok saliamo piano piano se non la cazzo no uno qua sta qua davanti fermate uno sta proprio qua che sorpresa è morto come sei morto attento da non te ne andare davide rientra davide rientra davide rientra che sorpresa cazzo a casa di lega venite ecco che qualcuno è nato è nato sta qua venite 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 accucciati qua a qua dietro su price o c'è granate che sto non è in un altro dicemazzo spaggia forma vado via va può guarda che il primo numero per terra vengono per terra ma vi alleva romana che ti entri c'entralia cosa aspetta fermo 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 venite qua eccone uno gente gente recente 2 tagliato no ma cambiato l'arma non so dove sono stanno sopra no mamma stavo faccio ma cambiato l'arma di erano l'ultimo erano l'ultimo testa c'è la società veloce resta nemmeno se pensate fermi se restano solo di stafa di corsa daniele in due di corsa daniele in due da 36 secondi parte la sei frega di corsa daniele in due viate per tutte le cure che ci stanno scudi niente scudi io ce lo sei c'è che non sei sotto la finita mia mitragietta grande la mania pensavo che era finita invece c'è esatta che resta uno solo qui c'è stata pistola o legato a capire la pistolina quella segnante quella è fondamentale sta sopra la montagna quel maledetto sono una montagna domanda via lega venite caricate solo bene le armi a palletta riga aspetta la pistoletta o quattro colpi fermi parola costruite aspetta davide non spara a caso qualcuno ha sparato lì giù rega ma chi è che spara no è davide che la pistolina da però non mi dà poco pure a me però per favore davide non sono stato io sta dietro a noi dove cosa sta rica no 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 sta dietro a noi rega no 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 qua sotto no 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 sta sopra ecco la guarda là dentro po out ma sguagliato ma cosa inserita 19 ma 34 aspetta ma te fammi da una curata 23 ma fatto male lo seccato tienilo seccato non posso per un attimo uno scudino lo so che me ne sono nato da ma perché ma eccolo la testa qua